Stokely Stormrider Lite, bello sci, molto maneggevole, una bella struttura, riesce ad andare a dare pressione e c'è una bella risposta sotto il piede, uno sci bello affidabile, se si vuole trovare un po' la pecca, la lunghezza, 165 io lo farei leggermente più lungo, per il resto uno sci stabile e bello maneggevole. In serpentina appunto come dicevo è bello maneggevole e sotto il piede ti dà una bella risposta, senti una bella affidabilità, non essendo anche lungo e anche curve, facendo degli archi un pochettino più ampi va bene, se prendi un po' troppa velocità arriva un pochettino a mancare, ma lì è dovuto alla lunghezza.